Ehi la ciurma, io sono una malziettessa e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Oggi andiamo a continuare i nostri piani con i pitti, andando a cercare di capire cosa sta succedendo che ci sono problemi per il matrimonio. Tra l'altro andando a discorrere in parte sul Discord ufficiale di Logic Artist, mi hanno detto gli sviluppatori di fare un po' attenzione sul Homestead, perché questi due numerini è estremamente difficile portarli tutti e due al massimo. E' necessario avere Power a 100 se si vuole fare il finale di Conquista, mentre Prosperity a 100 se si vuole fare il finale di Raid barra Alleanza Pacifica. Per cui d'ora in poi mi concentrerò su Prosperity soltanto. Il tizio di Logic Artist poi ha ammesso più o meno che non è stata un'idea narrativamente brillante il fatto di non rendere esattamente chiaro che è indispensabile avere Prosperity. Cioè non indispensabile, ma comunque che non ha alcun senso portarli avanti come sto facendo io un po' e un po'. Inoltre però mi ha detto che è possibile teoricamente arrivare, se ho capito bene quello che lui mi ha detto senza spoilerare troppo, arrivare a un finale di Prosperity, cioè comunque di Commercio Alleanza, se si porta a fine l'Alleanza con uno dei due regni, quindi con i Pitti o con Nortumbria. Visto che noi stiamo andando a gonfie vele diciamo con i Pitti per ora e sembra che dopo questo forse ci daranno qualche altra missione, però comunque abbiamo fatto già delle missioni rilevanti per loro, perché abbiamo tirato giù il nemico principale. Siamo andati a cercare di fare un'alleanza tra loro e la parte religiosa comunque che non era accettata del tutto all'interno della comunità. E adesso stiamo andando a lavorare per altri modi e direi che comunque di cose ne abbiamo fatte, ecco non è che siamo stati qua a girarci i pollici. E oggi appunto continuiamo andando qua verso Don Quirk. Sarà un viaggio troppo lungo, qua saranno tutti morti e stanchi, per cui direi che ci conviene andare. Qua è un posto bruttissimo per accamparsi, però meglio che niente. Tanto non dovremmo avere problemi né di cibo né di altre cose, abbiamo ancora da curare una volta a Slafer, però se non ricordo male perché era stato ferito da un serpente in passato nello scorso episodio, a quanto ricordo. No, dobbiamo dare carne a tutti perché c'è qualcuno che non... Abbiamo poca carne? Abbiamo poca carne. Ok, ci sono due persone che non possono permettersi di mangiare carne oggi, perché forse ne abbiamo consumata troppo, vabbè ma non è un problema. Di provviste ne abbiamo a Iosa. Ci sono quattro persone che hanno ancora ship... Allora, quindi direi, vai a hunting, vai a hunting, vai a hunting. Non so perché non fosse già impostata così. Tra l'altro scusate, sposto il mio faccione qua. Deve fare heal su di lui. Sì. Ok. Sarà completamente curata. Poi converte, converte. Tutti che convertono le medicine. le finiremo anche le medicine. Cioè le erbe, probabilmente. Tu vuoi fare un po' di scout. Tanto guardi, siamo a posto di tutti i turni. Anche di scouting in realtà, ma... A lei preserva rango 4. C'è qualcun altro che stiamo... Ma non c'è carne che va male verosimilmente. E comunque non ce la fa preservare perché non ne abbiamo la sufficienza. Chi è che c'è ancora che ha degli shift? Ah, Eidis. Cosa va a fare Eidis? Mi da heal, ma tanto c'è già... C'è già l'altra. E... Niente. Dormi. Mi spiace Eidis. Ma non abbiamo nulla da farti fare. E... Qua... Ehm... Di guardia. Starò di guardia. Non so cosa dire perché qua avrei fatto preservo, ma non abbiamo niente per riservare. Per cui... Mulla. Ceriamo di trovare qualcosina così di caccia. Allora... Allora, ci parla Asleifer. Ehm... Un momento del nostro tempo. Oh... Sì, certo. Quello è il problema. Ah, ok. Ce l'ha con me. È arrabbiato. Perché stiamo facendo una via pacifica, forse... Sì, lui vuole... Essere aggressivo. Mission dei mercenari. Andrei sul calmo. Calma ti fa mica spiegare. Eh... Ehm... Dobbiamo agire. Mi dai una possibilità per difendermi? Molto arrabbiato. So... E la con il pugno vuole picchiarci. Allora, oggi facciamo male. Eh... everywhere Allora la risposta è corretta è la seconda Ma ho paura che lui intenda solo le brutte maniere Vabbè andrò comunque con la seconda Spera semplicemente che non sia una posione di debolezza Ok però non ci ha abbandonato E' triste lui è molto scocciato da questa cosa qua Ah non sono well fed però Well fed cosa che abbiamo ottenuto Zero carne Eh noi abbiamo trovato tutta sta carne qua Vabbè GG direzioni comunque ne abbiamo messe da parte Per cui ci sta Vediamo cosa è che troviamo qua in giro 16 di legno 14 di legno E andiamo qua direi però non ci arriviamo comunque laggiù In una botta sola non ci arriviamo Vabbè proviamo a vedere un attimo se troviamo degli altri accampamenti in giro No Ce n'è uno occupato qua E andremo in questo direi E mi sa che dovrò farmela io Allora Appalled vuol dire che è preso un po' male Indifferente indifferente Devoto Ketil Allora no Prendiamo i soliti rasuoli E metterò in pausa Ci entra poco Rieccoci E' caduta neffia nel penultimo turno Per fortuna non abbiamo avuto problemi a riguardo Allora Ci accampiamo un attimo qua Siamo sempre senza carne purtroppo Allora segniamo carne a tutti Ma C'è gente che non ha niente da fare In questo momento I cacciatori cacciano o non cacciano Non abbiamo più Erbe Non abbiamo neanche più erbe da mettere Via Eeeh Qualche altro hunting Possiamo andare a cacciare Mi sa di no Mi sa che i 4 cacciatori già ce li abbiamo E nulla La gente dormirà Scusa dire Dormite Le erbe le abbiamo finite tutte Oh ben più carne Ottimo 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 Non era questo Buono Buono Molto buono Allora Eeeh Abbiamo trovato Delle robe qua nei dintorni Andiamo qua 6 di lane Ah no Vabbè aspetta No Fermati 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 Non andiamo fila giù Qui dopo si fa tardi Allora Prendiamo i nostri soliti Di partentia Speriamo che a slayfra Non ci lasci Perché Di guerrieri Siamo un po' Più tirati Ecco Come numero Perché c'è Eidis E c'è Sveina Ma Osval 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 Allora Non care Ma tra l'altro Come si è messi Come Punti 24 19 26 Ne abbiamo abbastanza Dopo dobbiamo fare un po' di upgrade Cosa è questa roba? La pietra qui da sempre Prodite degli chieni Sono quelle di segni di animali e di piante Ma sono abbastanza incomprensibili Allora Vediamo un po' Allora L'attacco Era subito Un'ambuscia ben esecutata Aia Mi sa che c'è Eh Ci sono stati guai Mi sa È tutto Bruciato E distrutto Cerchiamo solo di capire cosa è successo Ok Che cosa è successo qui? Hanno attaccato i vichinghi Hanno bruciato tutto Sto cercando Don Kovic Di dare la riata E si Sfortunato Perché il re è stato preso dai vichinghi Ah Kaiser Kaiser E cosa state facendo voi? Stiamo cercando Del bottino Le persone che hanno vissuto qui Non ne hanno più bisogno Non gli dico che non va bene Perché lo sto facendo anch'io C'è questo Moleto di macca Eh Va a finire che avremo dei guai Perché Sono altri vichinghi Che hanno attaccato Ci vedranno male poi anche noi Probabilmente Perché Siamo i vichinghi No È facile fare di tutta l'erba Un fascio Noi non vogliamo spaccare tutto Ma Essere tranquilli E' il canale bruciato Si Ma dove andrà? Giù Di qua? Ma come Dove Dove si passa per andare di là? Ah ok C'è una stradina qua Ok C'è una ragazza Vabbè Vabbè Inguala Ehm Ah c'è un nascondiglio Tipo I suoi occhi I suoi occhi sono rossi Dal pianto E i suoi vestiti belli Sono coperti di cenere e sangue Ti guarda con paura Prendendo la lama di un coltello da cucina E' dietro Non Mi userai per i tuoi piaceri Folli piaceri Ehm Ucciderò tutti quelli che riesco Dei vostri Darei la prima Ehm Vi assicuro che non Siamo parte dell'attacco Alla vostra casa Siamo qui dal Da parte di Caustant in Macfergosa E' preoccupato per la vostra salvezza Ah i Gae L'abbiamo incontrato Ok Queste persone non erano tra gli attaccanti Me ne sarei ricordati Per favore Abbassa il coltello Ehm L'abbassa leggermente Ehm Tranquillizza leggermente la sua voce Ehm Le persone che hanno fatto questo erano vichinghi Come voi Che colori vestivano? Ehm Viola Viola è nero Cule Il Il Stemma di scule Quando siete stati attaccati? Ehm Penso sia stato 5 giorni Sì Sono venuti nella notte 5 giorni fa Quelli di scrivere il loro leader Una bestia Ehm Grande Calva Ehm Indossava un'armatura di Una cotta di maglia Scacchi Uno dei suoi guerrieri feriti Ehm Fa fatica ad alzarsi Ehm Molte fresche No Molte cicatrici di vecchie battaglie Ehm C'è una ferita molto recente Che ha aggiunto la sua collezione Sono guardia e persone della principessa Al suo comando Ho seguito i vichinghi Che l'hanno portato via Suo padre Hanno fatto Sono stato abbastanza fortunato Da riuscire a scappare Con la mia vita Quanti erano? Ehm Erano 8 vichinghi Con una dozzina di pitti I pitti erano poco armati Ma i vichinghi erano Armati da Da guerra C'erano dei pitti Tra gli attaccanti? I vichinghi hanno attaccato Solo la nostra casa Ma Viaggiavano con dei pitti Sì Ehm Uno dei Dei clan Che si oppone Più Fervidamente Con Caustantin E E che è più Favorevole Con Al Mactaid Con Al Mactaid Ed morto Si stupisce Ah Grine Finalmente ha preso Il vecchio Cane Meglio per lei Ma se non avessi Saputo di questo Ehm Le persone che Cioè Se io non ho saputo di questo Neanche le persone Che hanno aiutato Questi bastardi vichinghi Lo sanno Ehm Combattono ancora Per lui E salveremo Don Coer Che Se siete al sicuro Qui Ce l'abbiamo fatta Finora Ce la faremo Per un po' Più a lungo Per favore Ehm Muovetevi Non so Che cosa faranno Questi animali A mio padre Vichinghi Vorrei un attimo Del vostro tempo Prima che Ve ne andiate Bene Ne parlerò No Ne rubiamo Le roba loro Dai povracci Ho un favore Da chiederti Ci chiede Bressa Ehm Mi dispiace Di vedere Di affidare La mia fede Cioè La mia fiducia A uno straniero E chiedere Un favore A qualcuno Come voi Ma non ho Altre risorse Siete stati Attraverso Parecchie difficoltà E voglio aiutarvi In tutto quello Che posso Ehm Ci sono un sacco Di persone Perdonate Avete la mia gratitudine È raro Trovare gentilezza Tra gli stranieri Per quello Che parliamo Ehm Ci sono dei Mentre parliamo Ci sono dei Saccheggiatori Che Ehm Visitano La casa Di un mio re Questi Mangiacarcasse Si sono Sono apparsi Un paio di giorni fa Ma non ho forza Per scacciarli Da solo La principessa Li affronterebbe Se fosse Se l'avessi lasciata Ma Non posso rischiarlo Potrebbe essere Cioè Lei è l'ultima Del sangue Di suo padre Vi prego Ehm Scaccerete Questi Saccheggiatori Quando la principessa Vive ancora Sono ancora Dei ladri Ogni minuto Che stanno Tra le Ceneri È un Colpo Contro Il regno Del mio re E il mio Stesso onore Farei la 2 Vedo se riesco a convincere Da andare Povorevolmente Grazie Allora Prima a parlarci Ci sarà Adley Perché sarà Arrabbiato Che continuiamo A fare i tranquilli Farei Farei Iniziamo con il dialogo Non dovreste stare qua Non è rispettoso Fatti gli affari tuoi Allora andiamo con diploma Da parte della principessa Finguala di Dallariata Vi ordino Di andarvene Intanto che la principessa È ancora viva Non siete Dei Saccheggiatori Ma siete I ladri La principessa è viva? Come posso sapere Che dice il vero? Vedo che siete Un tipo ragionevole Se facessimo Un Un accordo È stata una Una primavera Difficile Per la mia famiglia Non possiamo Non posso lasciare Qua Senza Nulla Non abbiamo Mai ricevuto Nessun aiuto Da Don Cork Ce lo devono Abbiamo bisogno Di una mano Dacci un Qualcosa E ce ne andremo Pacificamente Abbiamo dei soldi Grazie straniero E se ne vanno via No Dov'è che è La casa Del tizio Oh Prendiamo Compressa E le diciamo Vai Ti abbiamo Tolto la gente Dai piedi Bello Che sono Due giorni Là E non abbiamo Visto Che lei È là Con un fuoco Che novità I saccheggiatori Sono andati Ottimo Per favore Accetta la mia spada Come segno di gratitudine So che non è Molto Paragonata Al vostro Bell'acciaio Ma è tutto Quello che mi è rimasto Tutti i miei possedimenti Sono stati persi Nel fuoco Forse puoi venderla Ancora un po' come Pezzi di ricambio Insomma Ok Quindi ce ne andiamo Sono tollerato Dai gaella Adesso Tollerato Oh Cosa Vi aspettate Non c'è altro Poi in giro Vi sa E poi c'era anche Quel kernel Singolo Che abbiamo preso I Fiorellini Li abbiamo presi Tutti Ci sta Allora Direi che Vi sono stati 23 minuti Interrompiamo Qual video Io faccio Un po' di upgrade Dei nostri Pippottini E ci vediamo Nel prossimo episodio Vi invito Come al solito A lasciare un mi piace Iscrivervi Se per caso Non l'aveste già fatto E vi auguro Una buona giornata Ciao a tutti